Automobilisti ancora confusi sulle nuove modalità di percorrenza del traforo del Gran Sasso, non aiutati certo da una cartellonistica chiara che la società autostradale ha sistemato soltanto questa mattina, allo scattare dei nuovi limiti e delle nuove misure per la percorrenza dei 10 km di galleria nella pancia del Gran Sasso. Niente cartelli ancora questa mattina alle 11 per segnalare l'obbligo di attraversare la galleria a 60 km orari in direzione l'Aquila Teramo. Non ancora del tutto coperti poi i cartelli di velocità superiori a quella consentita da oggi a tempo indeterminato per quanto riguarda la direzione opposta da Teramo all'Aquila. Gli operai di strada dei parchi hanno apposto questa mattina i coni sparti traffico che delimiteranno le corsie perché da questo momento in poi la galleria del Gran Sasso potrà essere percorsa soltanto su una carreggiata, lasciando l'altra ai mezzi tecnici di intervento in caso di incidente. La distanza minima tra i mezzi sarà obbligatoriamente di 50 metri, circostanza non sempre rispettata questa mattina dagli automobilisti che hanno attraversato il traforo. Infine, divieto di sorpasso. Ci vogliono circa 10 minuti rispettando tutte le nuove prescrizioni per attraversare il traforo. Nessun problema in condizioni di traffico regolare come quello di questa mattina, probabilmente invece qualche problema ci sarà nei weekend e nei giorni dell'esodo estivo. Le nuove modalità di percorrenza del traforo del Gran Sasso con i nuovi limiti di velocità sono state decise nel corso di un incontro tecnico che si è tenuto la settimana scorsa al Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti, al quale hanno preso parte anche i rappresentanti di strada dei parchi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e degli Acquedotti di Teramo e L'Aquila. Il modello di circolazione è progettato per ridurre al minimo i rischi di incidente, quindi di ipotetici sversamenti liquidi nelle gallerie. Una soluzione che consentirà di mantenere aperto il traforo e di impedire che un eventuale sversamento possa raggiungere la falda acquifera del Gran Sasso. Grazie a tutti.